Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale Allora, oggi voglio farvi vedere come personalizzare Ubuntu 20.04 Per prima cosa dobbiamo installare ben tre programmi che ci aiuteranno nella personalizzazione sia del sistema che di alcune funzionalità Allora, andiamo su Mostre applicazioni, andiamo a reperire l'Ubuntu Software Center che ci servirà appunto per il primo passo, quindi installare questi tre programmi Sostanzialmente dovete cercare Gnome Tweak e installate questo, personalizzazione di Gnome che io metterei di base, ormai installato sempre su questa distribuzione Poi dovete reperire Synaptic, il famoso gestore dei pacchetti che ci servirà per installare dei PPA esterni che non verrebbero visti dall'Ubuntu Software Center quindi per evitare di fare la procedura da terminale Eccolo qua, gestore dei pacchetti, installate questo E poi l'ultimo programma è un editor che si chiama Dconf Eccolo qua, editor Dconf, stessa cosa, aprite e installate Una volta installati questi tre programmi, andiamo su Mostre applicazioni Spostiamoci su Software aggiornamento, ok E andiamo su Altro software perché dobbiamo aggiungere un PPA aggiuntivo che contiene praticamente un tema nuovo e delle icone E il PPA in questione ve lo metto qui in sovraimpressione, semplicemente fate Aggiungi e andate a copiarlo qui Magari ve lo lascio anche in descrizione per facilitare Fate Aggiungi sorgente, una volta che andate a chiudere vi dirà di aggiornare la cache del software Farà tutto in automatico, diamo Chiudi Una volta fatto questo possiamo procedere all'altro passaggio Però prima di iniziare la personalizzazione andate su Mostre applicazioni e aprite Firefox Perché dobbiamo visitare questo sito Allora io vado intanto a rimuovere questa estensione così vi mostro tutti i passaggi per bene Quindi visitiamo il sito dell'estensione di GNOME, ve lo lascio qui sotto in descrizione E' molto importante che aprite con Mozilla Firefox Una volta aperto andate a installare questo plugin, quindi questa estensione che trovate qui ben in vista Fate installa, ok tutto chiaro E abbiamo installato appunto questa estensione Dopoiché dovete andare a cercare User Teams, se non lo trovate qui basta che lo cercate Serve praticamente per andare a sbloccare la personalizzazione della shell di GNOME Diversamente non potremo personalizzare la barra delle applicazioni e quella superiore delle attività Allora prima di installare, qui vedete che già è in ON Diversamente voi lo troverete così Potrebbe darvi un problema per quanto riguarda l'interfaccia tra l'estensione e GNOME In questo caso aprite il terminale Andate a digitare questa riga di comando Che vi lascio sempre in sovrimpressione Date invio e digitate la vostra password di amministratore Dopodiché riaggiornate la pagina, questa di User Teams E andate ad attivare immediatamente questa funzionalità Una volta fatto questo possiamo chiudere Firefox e possiamo procedere alla personalizzazione vera e propria Quindi andiamo su Mostra Applicazione Spostiamoci su Utilità E andiamo ad aprire Personalizzazione Quindi GNOME Tweak Quello che abbiamo aggiunto insieme Da qui potete gestire praticamente tutta l'interfaccia di GNOME A differenza delle poche impostazioni che abbiamo dal menu impostazioni di Ubuntu Qui abbiamo l'applicazione all'avvio L'aspetto Da qui andiamo a impostare appunto il Flat Remix Come vedete ce n'è in diverse colorazioni A me piace molto questa Dark Blue Andiamo a metterla subito Ok Dark Perfetto Come vedete è pure una leggera trasparenza molto carina Il cursore lasciamo quello anche perché non è presente nei pacchetti Come icone mettere le Green Dark Mi piacciono parecchio E qui abbiamo la Shell sbloccata Diversamente se andate a saltare quel passaggio risultava bloccata E vi diceva che dovete installare, anzi attivare la Shell User Allora qui andiamo a mettere sempre il Flat Dark Perfetto Ok E praticamente abbiamo finito perché comunque lo sfondo già l'avevo impostato E tutto Per quanto riguarda la personalizzazione ovviamente lascio a voi anche la possibilità da estensioni Di attivarvi la possibilità di aggiungere dell'icone sul desktop Perché di base non lo fa fare a meno che non salviamo un documento sul desktop Quindi se volete vi attivate questa funzionalità Io ormai sono abituato a un desktop pulito quindi non lo vado ad attivare Qui abbiamo la personalizzazione delle finestre eccetera Ovviamente abbiamo anche la gestione dei caratteri che di base è molto comodo se volete cambiarli Come personalizzazione video mi fermo qui Ora andiamo a modificare una cosa che è odio di Gnome in questo caso Nel senso io ho Simple Screen Recorder aperto Se ci faccio un click me lo apre Se ci faccio un click non lo minimizza nell'icona Possiamo attivare questa funzionalità grazie all'editor che vi ho fatto installare Quindi andiamo ad aprire editor di conf Facciamo un semplice click Magari Simple Screen Recorder lo chiudiamo Sì state attenti perché comunque è un editor molto potente Come vi dice farò attenzione Dobbiamo Di base avete questo elenco Dobbiamo aprire Gnome Poi Shell Andiamo su Extension E andiamo ad aprire Dash to Duke Allora da qui dobbiamo andare a reperire la prima funzionalità Appunto questa per minimizzare all'evento click sull'icona Appunto si chiama click action Quindi scendiamo in basso finché non andiamo a trovare la lettera C Ok Click action Eccolo qua Facciamo un click Andiamo a staccare il valore predefinito E impostiamo l'evento Quindi all'evento click minimizza la mia schermata Torniamo indietro Semplicemente dando un click qui Io sono tornato indietro con il mouse E si sarà attivata la funzionalità Come vedete ora facendo un click Va a minimizzare Che è una cosa bellissima Poi andiamo a risolvere un'altra questione Una volta che avete spostato la barra in basso Che si fa dalle impostazioni di Ubuntu Mi sembra più logico avere il tasto mostra applicazioni a sinistra Anziché a destra Però è una semplice questione di abitudine Quindi andiamo sempre nel medesimo percorso Che vi ribadisco Gnome, Shell, Extension, Dash to Duke E dobbiamo andare a reperire la funzionalità Praticamente che va a gestire il tasto del menu Quindi show up to top Si trova in basso All'elenco ovviamente E allora eccolo qua Facciamo un click Stacchiamo il valore predefinito E impostiamolo su vero Torniamo indietro salendo di un ramo Ok E come vedete si è andato a impostare tranquillamente qui Perfetto Funziona correttamente Come vedete va a minimizzare anche i miei programmi E niente ragazzi Questa era la mia personalizzazione di Ubuntu 20.04 Vi invito nei commenti se avete difficoltà a scrivermi Per qualsiasi cosa E anche per condividere magari una personalizzazione Del vostro desktop In questo caso di Gnome Con me Per poter magari anche realizzare un video di aggiornamento O un nuovo video di personalizzazione appunto di Ubuntu Io come sempre vi saluto Vi ringrazio per aver visto il video E ci vediamo in un prossimo tutorial Ciao 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 Ciao